salve e ben ritrovati in questo nuovissimo video bene ragazzi oggi abbiamo un pacco misterioso che le andremo ad aprire assieme vi consiglio di guardare il video fino alla fine perché ci sarà una dedica particolare quindi mi raccomando ragazzi confidi in voi guardatelo fino alla fine detto ciò buona visione e buona continuazione detto ciò ragazzi però prima di andarlo ad aprire vi ricordo se non l'avete già fatto un bel like l'iscrizione al canale e perché no scrivetemi qua sotto che cosa ne pensate di questo prodotto che andiamo a vedere siamo un pacco misterioso arrivato da youtube in persona ragazzi questo pacco viene dall'irlanda se non vado errato e ora lo andremo ad unbox assieme detto ciò ragazzi come voi ben sapete abbiamo fatto un corso insieme ad altri creator è stata una cosa pazzesca ragazzi ci sono stati ospiti come fa vj dei show yakitale bellissima ragazzi abbiamo avuto l'opportunità di poter parlare con loro scambiare idee e ci hanno risposto alle varie domande devo dire è stata una cosa bellissima grazie mille youtube per avermi dato l'opportunità di poter partecipare detto ciò ragazzi quando abbiamo partecipato a questa riunione a questa mega riunione della community dei vari creati così la c'è il mio cagnolino che non so che cosa sta facendo i primi 100 che si iscrivevano vincevano un premio ragazzi il vostro x max 11 ce l'ha fatta ed eccolo qua questo pacco che ci è arrivato proprio oggi che andiamo ad unboxare assieme ovviamente con la nostra professionalità un nostro bellissimo coltello no questa qua non si apre la prima parte l'abbiamo aperta aspettate ragazzi abbiamo difficoltà nell'apertura della scatola magica ma come cavolo l'anno da questo lato ottimo sembra un pacco delle scarpe mamma mia ma che cos'è ragazzi ma è una cosa spettacolare bellissimo bene ragazzi allora il pacco si presenta in questa maniera che devo dire che pazzesco con la sigla di youtube devo dire una cosa fatta davvero davvero bene ora la usciamo dal suo scatolo originale andiamo a vedere come composta ragazzi allora la scatola la troviamo in questa maniera devo dire veramente veramente pazzesca ora andiamo a vedere cosa c'è al suo interno ma già la scatola promette davvero ma davvero bene ragazzi ovviamente vi ricordo se non l'avete già fatto un bel like e l'iscrizione al canale ragazzi bene allora ora andiamo a vedere cosa c'è al suo interno ve la faccio vedere ragazzi ancora la nostra scatolona di youtube che ovviamente teremo con tanta ma tanta cura qua abbiamo un laccetto per aprirla ed è anche magnete bene allora ora la apriremo con grande cura e abbiamo pure una scritta ragazza abbiamo pure una scritta che io direi regalozzo prepotente ragazzi regalozzo prepotente allora ci piacerebbe vedere come indossi il tuo regalo personalizzato assicurati di taggare youtube e utilizzare l'hashtag youtube creator 360 in tutti i post devo dire ragazzi una roba pazzesca bricella ancora non sto capendo che cosa stia facendo bene eccola qua ragazzi devo dire pazzesco poi abbiamo un fogliettino al suo interno mi stai dicendo che ancora non hai lasciato like lascialo clicca like clicca iscriviti e supporto del canale dell'xmaxiano doc mi raccomando confido in te e lasciano un commentino qua sotto non costa nulla che mi ringrazia per essermi unito a noi per creator 360 quest'anno abbiamo voluto inviarti una giacca personalizzata con il nome del tuo canale la tua continua collaborazione significa molto per noi speriamo che questo piccolo segno di ringraziamento ti faccia piacere devo dire pazzesco grazie mille youtube grazie grazie mille vuol dire qualcosa di buono l'abbiamo fatto almeno spero ovviamente ragazzi like iscriviti al canale e ora andiamo ad unboxare la nostra felpoccia mamma mia ragazzi bellissima già si vede che è massiccissima io direi che la possiamo uscire e abbiamo il nostro logo ragazzi x e max 11 bellissima grazie mille ancora youtube veramente una cosa fatta benissimo ragazzi davvero davvero bene io direi che la possiamo aprire perché la possiamo aprire ragazzi è nostra è nostra l'abbiamo vinta io direi che la possiamo utilizzare mi hanno mandato una m una m io direi che la possiamo indossare restiamo sempre brici alla mi guarda che non riesce a capire e voilà ragazzi la nostra felpoccia ovviamente con il logo youtube ragazzi questo qua non manca ma guarda che bel braccio che ho la nostra bellissima scritta youtube e abbiamo ragazzi spero che si veda bene x e max 11 ragazzi grazie mille ancora youtube per avermi dato l'opportunità di poter partecipare a questo meraviglioso evento spero che ce ne siano altri ancora perché è stato continuo a ripetere pazzesco perché è stato pazzesco poter scambiarci le varie news novità come poter approcciarci al pubblico devo dire pazzesco davvero bellissimo ragazzi per me è stato un sogno che si è avverato poter parlare con favij avere una sua risposta e tanto altro ancora mi è dispiaciuto non poter portare nel canale l'evento in sé perché ovviamente era una cosa tra virgolette riservata a noi creator anche se a me sarebbe piaciuto portarlo nel canale perché a me piace portare tutto ciò che fa parte della mia vita però purtroppo non l'ho potuto fare ma dovevo condividere con voi questo magnifico regalino che mi hanno inviato devo dire molto molto calda pure detto ciò ragazzi spero che questo video unboxing vi sia piaciuto con questa scatola misteriosa da parte di youtube ora vi lascio allora la felpa mi sta in questo modo devo dire che è stato un regalo bellissimo da parte di youtube che ancora ringrazio grazie mille mi avete fatto un regalo pazzesco però ragazzi il regalo più bello me l'avete fatto voi perché io sono arrivato anche in quel piccolo che ho creato solo e soltanto grazie a voi e vi volevo ringraziare davvero di cuore per essere sempre presenti supportarmi scrivermi su instagram chiedermi come sto anche nel periodo in cui sono mancato mi avete scritto e max ma quando torni quando torni a fare live e via dicendo questo qua è un grande grande onore per me ragazzi perché vuol dire che anche quel piccolo che ho fatto vuol dire che l'ho fatto bene e soprattutto con il cuore e che voi l'avete visto detto ciò grazie ancora ragazzi per essere qui per avermi supportato e per continuare a credere nei miei sogni perché giuro continuerò a credere in ciò che faccio perché mi diverto e quindi continuerò a farlo detto ciò grazie mille ragazzi questa quella vera chiusura del video ci vediamo ad un prossimo video sbarra prossima live ciao ragazzi ciao